Cantiere perché è un modo di dire che non solo i pensieri ma anche qualcosa che ha a che fare con il mettere in pratica e quindi concretamente agire. Quella di oggi rappresenta la prima pietra, la prima pietra del cantiere sanità all'auditorium Guido di Arezzo, la prima tappa di questo percorso condiviso nel quale è stato presentato anche il progetto di rigenerazione dell'ospedale San Donato. Quello che conta è il parere, il contributo, le idee e le proposte degli operatori sanitari. Un percorso che si concluderà in occasione del prossimo Forum Risk Management che si svolgerà ad Arezzo dal 21 al 24 novembre e che ospiterà nuovamente gli stati generali della sanità ma intanto si tracciano i contorni del futuro dell'ospedale Aretino. Abbiamo un'importante quantità di finanziamenti che stiamo cercando di unire ad altri in maniera tale da fare un ospedale, un San Donato nuovo. Sicuramente una parte già iniziata con la realizzazione delle nuove terapie intensive, le sale operatori e poi sicuramente la realizzazione del padiglione volano che ci permetterà di stabilizzare dal punto di vista antisismico la torre 1 del San Donato. Ma non si ferma con il San Donato, guarda a tutta l'area pionta dove c'è una programmazione condivisa tra l'Asle e il comune di Arezzo e soprattutto fa una riflessione sugli investimenti anche di formazione, di servizi, di personale e sulla telemedicina che è il vero elemento conduttore tra il territorio e l'ospedale.